Quindi la mia presenza come sovrintendenza, ecco degli spunti, delle necessità, anche dei dubbi, qui ho avuto modo di esprimerli, per cambiamenti in corso che le riforme in atto in qualche modo ci pongono davanti anche con difficoltà, anche con, vi assicuro, un tormento proprio personale e professionale. Ecco al di là di questo io sono qui per di nuovo attestare la totale disponibilità della sovrintendenza nelle sue varie articolazioni del personale che lavora in questo ambito territoriale per continuare a sviluppare questo progetto insieme agli altri, alcuni sono già in corso, vi dicevo, dallo scorso anno, per dare a queste idee delle gambe forti e per essere appunto dei compagni di viaggio in sperimentazioni anche nuove, che sappiano dare a questo territorio appunto una nuova prospettiva, perché credo che sia uno dei posti più straordinari di Appruzzo, anche per le suggestioni che riesce a smuovere per questa storia che ha avuto e della quale noi tutti appunto siamo testimoni e siamo custodi.